fichi e bottarga per i ragazzi di giallo zafferano sempre buonissimo iniziamo da una semplice base aglio olio e peperoncino quindi aglio olio e il nostro peperoncino senza i semi tagliato a batonette andiamo quindi a tagliare i fichi e buttiamo i nostri spaghetti in acqua bollente leggermente salata aggiungiamo dell'acqua e i fichi per creare la nostra base scoliamo la nostra pasta e mi raccomando bella al dente e andiamo a risottarla per ottenere una bella crema aggiungiamo quindi i fichi a fine cottura per avere due consistenze e andiamo ad impiattare una bella grattugiata di bottarga di mucine buona e ragazzi è una bomba ecco qui una mia idea per uno spaghettino